No, racconterò semplicemente che saranno forse i più forti giocatori di tutti i tempi. Ho avuto l'opportunità qua di giocare due anni con Chris, adesso vedere anche Messi dal vivo è un extraterrestre, un giocatore incredibile. È una grandissima opportunità che pochi hanno avuto, ma anche solo giocando in questi due grandissimi club, quindi avrò tanto da raccontare.